Parte domani, primo ottobre, nell'Auditorium Baglioni di Andrea, la quarta edizione della rassegna teatrale Visioni dei conflitti dei diritti, promossa da Casa Accoglienza Santa Maria Goretti, l'Ufficio Migrantes della Diocesi di Andrea e la Comunità Migrantes Liberi, in collaborazione con l'Associazione Il Nocciolo. Sentiamo, Marilena Pastore. Dopo due anni di stop imposto dalle registrazioni sanitarie dovute alla pandemia, Casa Accoglienza Santa Maria Goretti, l'Ufficio Migrantes di Diocesi di Andrea e la Comunità Migrantes Liberi, in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Nocciolo, danno il via alla rassegna teatrale Visioni dei conflitti dei diritti. Don Geremia, di che si tratta? Che attraverso i grandi strumenti, o il grande strumento della cultura, ritornare a pensare e a riflettere sui grandi temi. Infatti questa rassegna teatrale mette in campo alcune giornate nazionali e mondiali. Basti pensare a quella del 3 ottobre, che il Parlamento ha dichiarato giornata nazionale dell'accoglienza a seguito della tragedia di Lampedusa, che è entrata nel dimenticatoio. Ma ancora di più, la cultura ci aiuta a scoprire, a scorgere il sovrasensibile che supera i limiti umani, dove la vista spesso rimane cieca. Ed è importante parlare di cultura, soprattutto in questo nostro contesto, caratterizzato soprattutto dal materialismo. La cultura eleva, la cultura ti dà la possibilità di pensare, la cultura ti dà la possibilità di non essere schiavo di niente e di nessuno, di quelli che magari vogliono farti diventare sempre povero. La povertà la si sconfigge con la cultura. La cultura, la conoscenza, il grande acquedotto che dovrebbe dissetare l'umanità. E questo è il senso di questa rassegna teatrale. La nostra associazione curerà la parte artistica di questa rassegna. Abbiamo scelto quattro spettacoli che verranno messi in scena in concomitanza con le giornate mondiali dell'accoglienza, della povertà, della tratta degli esseri umani e della memoria. Uno di questi spettacoli sarà il frutto di un laboratorio che vedrà coinvolti i ragazzi della cooperativa Migrantes Liberi. Ci tenevamo soprattutto a sponsorizzare questo spettacolo perché abbiamo voluto rafforzare il processo di integrazione portato avanti quotidianamente da Casa Accoglienza e dai suoi volontari.